Una storia individuale ma allo stesso tempo universale, vicende che parlano di ingiustizia, sofferenze, difficoltà, avvenimenti che hanno cambiato la vita di un ragazzo palestinese che potrebbero riguardare l'umanità intera. Lo scrittore Ode Amarne è stato a Pescara per la presentazione moderata dalla collega Daniela Senepa e organizzata dalla CGL del suo libro Memorie di un ragazzo di serie B. Un racconto amaro, non senza sprazzi di ironia, che parla dei lunghi mesi di prigionia a cavallo degli anni 90 nelle carceri israeliane. Ode è un bambino spensierato, felice, come può essere qualunque bambino in tante parti del mondo, diventa adulto in maniera del tutto precoce a causa dell'intifada dell'87, la rivolta popolare che riguarda i territori occupati 20 anni prima da Israele e che va da Gaza alla Cisgiordania. Disobbedienza civile, scontri con gli occupanti, il risultato sono rastrellamenti che vedono finire in prigione anche adolescenti, ingiurie, poco cibo e torture per estorciare i nomi dei compagni di lotta. Ode non parla e non lo farà fino al giorno del suo rilascio. Il paradosso è che l'autore usa lo sguardo di un cronista, scrive come un poeta ed esprime l'amore per il suo popolo con un unico sogno, la pace. Oggi si parla di tanti conflitti, quello che esiste, permanente ancora, che riguarda le vostre terre sembra dimenticato nell'agenda internazionale. Pertroppo sì, il mio romanzo è intitolato così, Memoria di un ragazzo di serie B e questo racchiude tanti significati in questo titolo, per dire che il popolo palestinese è considerato come serie B, perché purtroppo adesso nel mondo ci sono conflitti di serie A, conflitti di serie B. Noi palestinesi soffriamo da 75 anni, siamo dimenticati della comunità internazionale e noi attraverso la cultura cerchiamo di raccontare la nostra vita, le nostre richieste alla comunità internazionale e chiediamo anche la solidarietà del popolo italiano, del sindacato, di diverse associazioni.